L'unica nota stonata della gara contro la Juventus è l'infortunio di Meret. L'esito degli esami ha confermato lo stop di almeno una ventina di giorni. L'estremo difensor retornerà dopo la sosta delle nazionali. Vedremo se già per il primo match a Empoli di sicuro si tenterà di recuperarlo per il big match di San Siro contro il Milan in programma il 29 ottobre. Intanto c'è un'altra grana da risolvere in casa azzurra. La storia d'amore tra Mario Rui e il Napoli è finita male ma la parola fine non è stata ancora scritta. L'esterno portoghese è finita ai margini del progetto di Antonio Conte. È invitato dal club in estate a trovarsi una nuova sistemazione. L'ex Empoli, voglioso inizialmente di tornare in Portogallo, ha rifiutato tutte le proposte arrivate a Napoli al suo agente Mario Giuffredi. Il portoghese ha rifiutato per motivi personali e familiari e non economici una serie di offerte. Prima il Valadoid in Spagna, poi il Nizio in Francia, il triennale dei Greci dell'Aris Salonico e ancora in Francia con il Lille che partecipa anche alla Champions League. Infine il San Paolo in Brasile che pure gli avrebbe garantito un contratto da 5,6 milioni di euro in due anni e mezzo. Fatto sta che Mario Rui non si allena con il gruppo Napoli oramai da un mese e mezzo da quando gli fu concesso un permesso prima del match di Coppa Italia contro il Modena. Il calciatore in ugual modo si reca a Castelvolturno in erraria diversi dalle sedute agli ordini di Antonio Conte pur utilizzando le strutture del Napoli. Una situazione particolare che ha spinto Mario Rui a chiedere tramite PEC il reintegro in rosa tirando in ballo l'AIC. Intanto in vista della gara di Coppa Italia di giovedì Conte medita dei cambiamenti. Ci sarà una vera e propria rivoluzione in formazione in vista del Palermo. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Sarà l'occasione per vedere all'esordio al primo minuto tanti volti nuovi. Il più atteso è quello dello scazzese Gilmour che con ogni probabilità sarà titolare a posto di Lobotka così come Foloruscio, Mazzocchi, Guayesus, Spinazzola, Raspadori e Simeone che ambiscono tutti ad una maglia da titolare.